Buongiorno, buon venerdì 21 luglio, ben trovati a mattino 6, il quotidiano appuntamento con Lara Segna Stampa, iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo ad aprire anche in questa prima parte lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Come detto partiamo dai quotidiani abruzzesi, dal centro, questa è la prima pagina della edizione di Pescara, muore mentre fa il bagno in mare, tragedia davanti a decine di persone a Pescara all'altezza dello stabilimento Traghetto. E poi a centropagina la foto di Piovani, Assulmone il compositore della colonna sonora della Vita è bella, Piovani musica da Oscar per l'Abruzzo, Piovani ha ricevuto la statuetta d'oro nel 99 per le musiche del celebre film di Roberto Benigni e sarà a Assulmona il 12 di agosto. Nelle cronache a Pescara blitz, dei vigini spiaggia, maxi sequestro di merce, poi Michele e Loris sposi dopo 12 anni e per quanto riguarda la giustizia è arrivato Serpi, nuovo capo della procura di Pescara. All'interno scandalo nel calcio, tratta dei baby calciatori dall'Africa, politici abruzzesi, caccia al seggio in Parlamento chi entra e chi esce, poi agricoltori premiati, la rosa nera e il sale spray, sono da Oscar. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo, firmato da Giuliano Di Tanna, quando l'estate era un dolce far niente, una riflessione sull'ipertrofismo delle manifestazioni estive che distraggono dal necessario riposo nella bella stagione. Nel taglio alto, un richiamo dal nazionale, la maxi sentenza, Roma 20 anni a Carminati, ma cade l'associazione mafiosa per il processo che è derivato dall'inchiesta cosiddetta mafia capitale. Prima di passare a leggere le altre prime pagine del quotidiano Il Centro, vi diamo conto di una notizia da poco uscita sulla agenzia ANSA. I carabinieri del Nasse di Pescara hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, altre due di obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di concorso in falso di prescrizioni mediche per l'acquisto di sostanze dopanti utilizzando timbri e ricette rubate. Nei guai a Montesilvano è finito un 45enne che è stato arrestato, agito in concorso con una coppia del posto, un uomo di 36 anni e una donna di 30. Il 45enne è stato individuato grazie alle indagini dei militari del NAS, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L'uomo con la complicità delle altre persone coinvolte utilizzava ricette e un timbro rubati nello studio di un ginecologo per acquistare sostanze dopanti nelle farmacie di Pescara e di Montesilvano. Il NAS, diretto dal Maggiore Candelli, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Montesilvano, ha monitorato ogni movimento dei tre, esaminando anche una serie di immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che sono state utili e sono state utili all'identificazione delle persone coinvolte e a tracciare i loro traffici. Questo per quanto riguarda la notizia dell'ultima ora. Torniamo ai nostri quotidiani e adesso andiamo a vedere la prima pagina del centro nell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Cipressi sconto per l'omicidio, questo è il titolo di apertura. Il giovane Tiatino accusato del delitto del musicista di Marco a Chietiscalo chiede il rito abbreviato. E poi nelle cronache, seconda aggressione a Vasto, dipendente comunale, ferito a colpi di casco a San Vito, azienda di dolci acquistata dagli svizzeri, e poi Chieti bacia la barista, condannato a cinque anni e mezzo. Andiamo avanti, adesso la prima dell'edizione teramana. Così fracassa ha vinto l'appalto e l'apertura, tangenti per il post-sisma, le intercettazioni e per l'inchiesta Castrum, otto a processo. Inchiesta Castrum ricorderete che riguarda sempre presunte mazzette negli appalti pubblici, inchiesta che ha per fulcro il comune di Giulianova, una dirigente del municipio. Nelle cronache tra Alba e Martinsicuro, sul bus senza biglietto sputano ai controllori, e poi a Teramo violenze sulle donne di casa, due allontanati a Martinsicuro, madre e figli scampano all'incendio. Andiamo a vedere anche la prima di L'Aquila-Vezzano sul Mona. Spuntano soldi in casa dei due indagati. Ancora l'inchiesta sul post-sisma. Risate e mazzette, trovati 15 mila euro. Ecco le intercettazioni shock dell'inchiesta che trovate all'interno del giornale. E poi nelle cronache all'Aquila, danneggiata la macchina della senatrice Blundo ad Avezzano, il CAM, il sindaco di Luco, vuole subito i soldi. Sul Mona la giostra fa sloggiare il mercato. Adesso andiamo a vedere un'altra testata, quella del messaggero, e dunque andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. A Palti trovate le prime mazzette, il titolo di apertura. L'Aquila sorpresa durante le perquisizioni, quasi 15 mila euro divisi tra due funzionari. Loro, dicono, sono soldi per le spese quotidiane. Ironia sulle aziende che perdevano i lavori. Soldi incontanti, leggiamo dall'estratto dell'articolo, nel cassetto del comodino per quasi 15 mila euro, a trovarli ed a sequestrarli in casa di Leonello Piccinini e Marcello Marchetti, entrambi funzionari del MIBAC, di militari del nucleo investigativo del reparto operativo dell'Aquila. nel corso delle perquisizioni, nell'ambito del nuovo caso giudiziario, sulle presunte tangenti nella ricostruzione pubblica post terremoto 2009. 12 i cantieri al centro degli accertamenti. Andiamo a vedere ancora la prima pagina del messaggero. Andiamo a centropagina ora, restando sempre alla notizia della inchiesta, le intercettazioni di Vincenzo tradito da una cimice nell'auto. Aiuto mio figlio? Non c'è niente di male. L'aver aiutato mio figlio? Mica è un reato. Così fan tutti, mi spieghino cosa c'è di male. Questo è il senso di un'intercettazione ambientale a carico di Bernardino Di Vincenzo nel caso degli appalti. Continuiamo con la lettura della pagina del messaggero. Andiamo di spalla ora. Liberalismo, Forza Italia mette a punto le coordinate. Ripartire dal liberalismo moderato, è questo il mantra dei forzisti. Sempre a centropagina, sicurezza Pescara super blindata per la notte bianca. Domani la manifestazione clou dell'estate di vieti e piazze presidiate dal pomeriggio. Nel taglio basso, il procuratore Serpi, priorità a Rigopiano. Ieri l'insediamento del nuovo procuratore di Pescara, Massimiliano Serpi, che prende il posto di Cristina Tedeschini. Ovviamente in primo piano c'è l'inchiesta su quanto accaduto all'hotel Rigopiano, inchiesta che era proprio in mano al procuratore Tedeschini, che ora sarà a carico del nuovo procuratore. Nel taglio alto, calcio scocca l'ora degli addi, Zeman vuole ridurre la rosa. E poi, giorno e la notte, Bollani torna a suonare a Pescara dopo tre anni. E l'evento Jazz per le terre del sisma all'Aquila il 3 di settembre. Andiamo a vedere anche la prima della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Inguaiati dalle cimici in macchina, il titolo sulla inchiesta per il post-sisma, l'imprenditore fracassa, il funzionario del Mibact, intercettati durante lo scambio della mazzetta. E poi, a centro pagina, note in vetta per Unite, il concerto inaugurazione dell'anno accademico ai Prati. Sotto la fotonotizia, Cinghiali ha ragione la regione, respinto e ricorso al tar degli ambiti di caccia Teramani. Nel taglio alto, uno picchiava l'anziana madre, l'altro la moglie e la figlia, allontanati dalla famiglia altri due Teramani che odiano le donne. Poi da Giulianova, caso Castrum, otto a processo a dicembre. Di spalla, il caso Frivax, Petrella dopo l'audizione all'ordine dei medici, asili per bambini non vaccinati. Questa è la proposta e anche la provocazione. Poi da Martinsicuro, madre e figlio salvati dalla casa in fiamme. Nel taglio basso, la candidatura di Teramo a Capitale della Cultura 2020. E poi il calciomercato, Teramo, calcio con De Grazia. Il mosaico è quasi completato. Questo per quanto riguarda la ricognizione sulle prime pagine regionali. Adesso, come detto in precedenza, apriamo lo spazio invece dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Condannati non per mafia, il titolo sulla sentenza di mafia capitale, il PM è ielo, i verdetti si rispettano ma faremo appello una volta lette le motivazioni di questa sentenza. Sabella dice non è un processo perso. Roma, i giudici accolgono in parte le accuse a Carminati, 20 anni, a Buzzi, 19. Questo per quanto riguarda il processo mafia capitale. A centro pagina, attenzioni con Ancara dopo l'arresto di un attivista tedesco, Merkel sfida Erdogan, non andate più in Turchia. E poi il presidente della BCE, tassi invariati, Draghi va avanti con l'acquisto di bond e titoli. C'erano state delle dichiarazioni male interpretate di Draghi che facevano pensare a una progressiva riduzione dell'acquisto di bond e di titoli da parte della Banca Centrale Europea. Il governatore ha voluto ribadire che invece si continuerà con questa politica monetaria non ortodossa. E poi andiamo a vedere anche la riflessione di Angelo Panebianco, noi e la Costituzione, le difficili riforme italiane. Continuiamo con la lettura dei quotidiani nazionali. Ora la Repubblica, Carminati e Buzzi con danne dure, ma per i giudici non si tratta di mafia. Vent'anni all'ex terrorista, ora quando esco, confermate le altre accuse, solo cinque gli assolti. Sconfitta la linea della Procura, faremo ricorso, scontro nel Partito Democratico, indagine usata contro Marino. Questo è il riassunto che fa la Repubblica, poi c'è un focus, NAR, Magliana e Tangenti, le tre vite del nero. Vedete le foto di Massimo Carminati da ragazzo e a destra dopo lo scontro a fuoco in cui perse un occhio. Scendiamo nel taglio basso, le storie, il capitolo mancante, Apple imprigiona ancora le foto di Mio figlio morto e il racconto di Maurizio Crosetti. e poi plastica, il mondo soffoca sotto 822 mila torri Eiffel, in giro 6,3 miliardi di tonnellate di plastica. Andiamo a vedere anche la riflessione di Mario Carabresi, l'insano sollievo, leggiamo le prime righe, quando la politica di una città di fronte a condanne per 250 anni di carcere festeggia, ci sarebbe da essere contenti, ma se si ascolta meglio e si scopre che non si festeggia perché giustizia è fatta, bensì perché i criminali che dominavano la scena sono riconosciuti delinquenti, però non mafiosi, allora c'è davvero da avere paura. Questa è la considerazione a margine della sentenza di Mafia Capitale. Continuiamo con la stampa, il quotidiano di Torino apre anche qui sulla sentenza di Mafia Capitale, è Roma corrotta, ma non c'è la mafia, i pubblici ministeri incompreso il nostro lavoro, l'intervista all'ex sindaco Marino e il PD muore, non ha fatto pulizia per Cambrinati e Buzzi, una sentenza da 20 e 19 anni rispettivamente, il Tribunale sono delinquenti comuni, quindi è stata in qualche modo derubricata a delinquenza comune, quella che invece si era ipotizzata fosse una cupola mafiosa. E poi l'eterno Kalashnikov fa il boom di vendite, negozi spot e un aumento dei profitti del 123%, notizia invece che arriva dall'Olanda, congede i papà e volontariato la svolta del welfare olandese, i dipendenti over 60 potranno dedicarsi alla solidarietà. Andiamo ancora avanti con la lettura dei quotidiani nazionali, adesso andiamo a vedere la prossima prima pagina che è quella del Sole 24 ore, manovra sotto esame oltre 400 sconti fiscali, primo sia lì per ammortamento fino a settembre 2018 è il titolo di apertura del Sole, poi conti svizzeri, la Guardia di Finanza vuole i nomi, nuovo filone di un'inchiesta del 2014, finora recuperati 282 milioni di euro, indagine su quasi 10.000 posizioni finanziarie al Credit Suisse per 6,6 miliardi di euro. Torniamo a vedere i titoli di apertura e adesso ci spostiamo sul fatto quotidiano, mafia capitale non erano mafiosi, solo ladroni, Roma depredata da destra e partito democratico con danne durissime per Buzzi, Carminati e company ma niente 416 bis che è appunto il reato di associazione mafiosa. Il caso Consip nel taglio alto ancora veleni sull'inchiesta L'Aise caccia il capitano ultimo i sospetti dell'intelligence ha collaborato all'indagine di Scafarto. Poi nel taglio basso cose impossibili Sigonella la base deve 12 milioni al fisco ma gli USA non aprono non si riescono a notificare le cartelle. Continuiamo con la lettura delle prime pagine adesso il messaggero il quotidiano romano ovviamente pone grande attenzione alla sentenza di mafia capitale stangata capitale ma non è mafia il titolo sulla foto dell'aula bunker il primo grado con danni pesanti per Carminati 20 anni e Buzzi 19 esclusa l'aggravante mafiosa appena Severa Gramazio Odevaine e Coratti scarcerati 17 dei 46 imputati restano in carcere solo in 5 Fiscon assolto questo è quanto accaduto ieri e poi l'onda dell'inchiesta il Campidoglio ostaggio della sfida sulla legalità e l'analisi la linea rossa del tribunale esclude il 416 bis andiamo ancora avanti con il tempo il giorno della Cilecca mafia capitale al processo alla cricca del mondo di mezzo cade clamorosamente l'aggravante mafiosa confermato il malaffare semplice quasi tre secoli di condanne complessivamente ma Carminati e Buzzi saranno presto liberi lo scoppolone di Gianmarco Chiocci Roma non è Corleone una nuova mafia non c'è non c'è mai stata non si è allungata all'ombra del Colosseo mai si è infilata il coppolone come invece scrivemmo dice il giornalista nel dicembre del 2014 dopo la maxi retate vedete qui piccolino proprio il ricordo della prima pagina del tempo il coppolone oggi si richiama quella prima pagina andiamo sul manifesto anche qui titolo su mafia capitale mala capitale pesanti condanne per il mondo di mezzo di Carminati e Buzzi 20 anni di carcere al primo 19 al secondo ma i giudici demoliscono l'accusa di mafia sostenuta dalla procura di Roma si tratta di associazione a delinquere semplice tutti condannati gli imputati politici e poi atomiche ispezioni top secret usa Italia la decisione del pentacono anche per Aviano e Ghedi ora andiamo sul libero il film di Sorrentino su Berlusconi il grande seduttore il regista dei VIP di sinistra dedica la prossima opera ai vizi e alle virtù del cavaliere se sarà obiettivo dovrà dire che Silvio ha fatto un pezzo di storia importante del paese per il leader azzurro è tutta propaganda andiamo avanti con il giornale Alfano prende ordini da Vienna e scontro sull'immigrazione Austria shock tenete i migranti a Lampedusa o chiudiamo il Brennero Boldrini dicei e ora Boeri dell'Inps e uno stato scafista e poi questa notizia curiosa da lì l'artista così surreale da uscire persino dalla tomba riesumato dalla figlia il famoso artista e pittore mafia capitale crolla l'ipotesi mafiosa torniamo sul giornale era tutta una bufala carminati buzzi e compagni condannati pene pesanti ma per reati comuni ora la verità il quotidiano fondato in diretto da Belpietro i poliziotti mai così indifesi espulso l'accoltellatore e ne restano 52 mila sono clandestini violenti che come l'aggressore di Milano non hanno rispettato l'ordine di rimpatrio e l'Austria ci detta la linea lasciate sull'isola di Lampedusa tutti quelli che arrivano con i barconi poi in questa fotonotizia il capo dei gesuiti prega Buddha e ancora Berna consegnerà i conti di 10.000 italiani addio segreto bancario la Svizzera rivelerà i nomi di chi ha portato 6,6 miliardi oltre confine il secolo d'Italia non fu mafia ovviamente il titolo riguarda la sentenza di ieri a Roma e non chiamatela più mafia capitale si aggiornino i titoloni della stampa scrive il secolo d'Italia in primo piano poi Macron blocca la TAV silenzio di Gentiloni per il collegamento ferroviario Lione-Torino e poi basta armi ai terroristi Trump cancella Obama i siriani che si oppongono al legittimo governo di Bashar al Assad una mossa che è stata a lungo sostenuta dalla Russia lo sostengono i funzionari statunitensi e poi raggi il Movimento 5 Stelle dormiva la domanda scomoda alla lettura della sentenza del processo di mafia capitale nell'aura bunker del carcere di Re Bibbia c'erano decine e decine di giornalisti tra cui anche quello del secolo d'Italia in aula anche Virginia Raggi presente per ascoltare la sentenza a nome dei romani feriti dall'inchiesta poi il sindaco si è congratulato con i magistrati comune che si è costituito parte civile continuiamo con il dubbio sì li condanniamo ma non però non era mafia questo è il titolo di apertura la sentenza al processo del secolo quello che si chiamava mafia capitale poi nel taglio basso morto Pelosi razza balorda e il ragazzo che uccise il poeta Pino Larana 59 anni l'assassino di Pasolini il secolo XIX il quotidiano genovese tir in fuga dai divieti Liguria sotto assedio la commissione lavori pubblici subito nuove regole le regioni di confine pagano norme più severe in Francia e in Germania e poi notizia curiosa centropagina in coda nel Tiguglio per la guru americana dei fiori corsi della flower designer Kiana Underwood tutto esaurito tre mesi prima andiamo avanti il mattino Roma non è mafia capitale dure condanne alla banda Carmina Tibuzzi ma cade l'associazione mafiosa la procura dice il verdetto in parte ci dà torto procura che si è detta pronta a ricorrere in appello l'orrore di Marechiaro stuprata minacciata e poi offesa sui social i violentatori se parli ti bruciamo la casa questo per quanto riguarda la notizia che arriva dalla campagna e poi Pino la rana se ne va con i segreti di Pasolini il personaggio morto pelosi unico condannato per l'omicidio dello scrittore ancora vendita del Banco di Napoli parte la causa al tesoro il CDA della fondazione chiede i danni andiamo ancora avanti il Gazzettino il quotidiano del nord est vaccini passa il decreto tra virgolette morbido sanità cambia il testo cancellata anche la possibilità di perdita della patria potestà ora il testo passa la camera scendono da 12 a 10 i vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola ridotte anche le sanzioni per i genitori che non si attengono alle prescrizioni di legge e poi a centropagina migranti lo schiaffo di Vienna teneteli a Lampedusa duro scontro fra Italia e Austria andiamo a vedere anche i quotidiani nazionali sportivi partiamo dalla Gazzetta dello Sport a centropagina il titolo di apertura parla Fassone Milan tra i primi 5 al mondo i primi 100 giorni del nuovo amministratore delegato nel 2022 fatturato raddoppiato per stare tra i più grandi lo scudetto subito è difficile ma lascio le porte aperte dunque questi gli obiettivi del nuovo Milan di proprietà cinese manca la ciliegina intanto arriva Kalinic proprio per rimanere al mercato del Milan Pelotti blindato Cairo avvisa i rossoneri non voglio venderlo i contratti hanno un valore la clausola di 100 milioni è solo per l'estero in Italia ce ne vogliono anche di più Torino stretta di mano senza incontro tra il presidente e il Gallo continuiamo con il calcio mercato di spalla trattativa oltranza Bernardeschi non va in ritiro Juve a un passo presenta un certificato medico al club viola e vede i bianconeri oggi nuovo round su soldi e bonus e poi dopo l'affare Vesino Inter blitz in Cina per l'ok a Keita e Schick il colpo fenomenale vogliamo Neymar Paris Saint-Germain pronto a sborsare 222 milioni di euro andiamo ancora avanti su tutto sport Bernardeschi ma sì e Juve siamo ai dettagli questo per quanto riguarda il passaggio ormai quasi certo di Bernardeschi alla Juventus poi Belotti legato il presidente del Toro Cairo a Bormio dal Gallo resta con noi 100 milioni o niente decido io questo per il probabile possibile passaggio di Belotti al Milan che insomma il presidente del Torino vuole scongiurare poi Milan ecco Kalinic in attesa del grande colpo Inter due acquisti per tenere i spalletti tranquillo estero gli zii d'America padroni del calcio made in USA nel taglio basso ciclismo Tour Aru alza bandiera bianca sull'Isoar e poi nuoto Italia bronzo mondiale a squadre nel fondo andiamo a vedere anche il corriere dello sport Bernardeschi alla Juventus ormai ci siamo Juve da 10 l'attaccante ha mandato un certificato medico e non si è presentato nel ritiro della Fiorentina trattative frenetiche si chiuderà a 40 milioni più altri 8 di bonus nel taglio alto Milan ascolta Mirabelli voglio anche Sanchez il DS rossonero rivela le sue mosse Belotti o Kalinic siamo al lavoro e poi la tu per tu di Walter Vettroni domani grande esclusiva con Walter Sabatini dell'Inter nel taglio basso Unas scatenato solo a Napoli nel paradiso del bel gioco e poi Roma arriva Kolarov accordo fatto con il City ancora l'affare Emery chiama Neymar al PSG solo i big e ancora Lotti è l'ora di cambiare i diritti tv il ministro la Lega non perda tempo ci fermiamo per il break pubblicitario prima parte che si conclude qui adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna dedicata alle notizie dalla nostra regione a tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 torniamo dunque ad approfondire le notizie dalla nostra regione ripartiamo dalla inchiesta per gli appalti nel post terremoto dalla pagina Abruzzo del messaggero appalti soldi nei cassetti PM sono due tangenti si tratta di 5500 e 8800 euro trovati a Lionello Piccinini e Marcello Marchetti loro dicono servono per le spese quotidiane motivetti ironici verso chi perdeva i lavori e poi di Vincenzo aiuto mio figlio così fan tutti mica è un reato l'ex segretario del MIBACT intercettato mi devono spiegare cosa c'è di male poi per il teatro concepito una variante con la quale si sarebbero fatti aumentare i prezzi a Santo Stefano di Sessanio la torre e il giallo della busta scambiata nel taglio basso mura storiche e sanzisto la leva degli imbrogli andiamo a vedere sempre su questo argomento la pagina della della città che parla proprio delle intercettazioni telefoniche le mazzette per la torre contate in macchina le microspie documenterebbero lo scambio di denaro tra l'imprenditore fracassa e il funzionario Piccinini dunque queste le risultanze delle investigazioni l'ipotesi investigativa denaro per ottenere informazioni sul ribasso in modo da correggere in diretta l'offerta e vincere la gara da un milione e mezzo andiamo ancora avanti con con la lettura dei giornali adesso apriamo invece la pagina Bruzzo del centro grandi manovre caccia al seggio in Parlamento chi entra chi esce chi spera ricandidatura certa per Ginobile Castricone nel PD sui dem l'incognita ad Alfonso di Stefano di Forza Italia verso il Senato Alfagnani in corsa alla Camera Melilla di Articolo 1 blindato questa è un po' la ricognizione in vista delle prossime elezioni politiche nel taglio basso l'incontro D'Alfonso da Padoan per salvare l'Abruzzo rischio commissariamento per 800 milioni di disavanzo il governatore il ministro ci aiuterà e vedete la foto di ieri di D'Alfonso a colloquio con il ministro delle finanze Piercarlo Padoan adesso apriamo la pagina di Pescara sempre sul quotidiano il centro la notte dell'Adriatico città pronta la festa 80 show fino all'alba domani concerti di Biondi e Barbarossa DJ set area sport e street food l'evento sarà ovviamente eseguito in diretta da diversi mass media e poi di vieti e sicurezza la riviera chiude alle auto alle 18 bus navetta con 17 aree parcheggio queste insomma un po' le novità per quanto riguarda la notte dell'Adriatico andiamo a vedere insieme il servizio sulla presentazione dell'evento Assessore Cuzzi tutto pronto per la notte bianca avete rifinito anche gli ultimi dettagli sarà una grande nottata il caso di dire per Pescara previsti migliaia di visitatori migliaia di presenze in città tra l'altro avete anche predisposto un servizio di bus navetta si mancano poche ore ormai a questo tradizionale appuntamento arrivato alla terza edizione la più grande piazza pedonale del divertimento oltre 80 aree spettacoli tantissime manifestazioni importanti di livello nazionale nelle aree concerto a partire dal tour di Radio Monte Carlo con Mario Biondi Elodini Kdenet Fly poi ci sarà Luca Barbarossa Giobbe Covatta e Selvaggia Lucarelli Vincenzo Olivieri e poi ci sono tutta una serie di misure importanti per quanto concerne la viabilità la riviera verrà chiusa dalle ore 18 del 22 fino alle 6 del mattino del 23 luglio avremo 28 accessi alla riviera interdetti ci sono importanti misure di sicurezza oltre 250 uomini impegnati tra protezione civile sicurezza privata polizia municipale sotto territori della Croce Rossa e della Misericordia abbiamo delle importanti ordinanze sempre a garantire la sicurezza delle aree spettacolo su tutta la riviera quindi il divieto di vendita e somministrazione in vetro e in lattina e poi il divieto del commercio itinerante ambulante su tutta l'area importante servizio anche di navetta gratuita che collegherà i principali parcheggi dalle ore 8 alle 4 del mattino fare gli eventi non significa solo fare spettacolo ma significa riattivare tutta una serie di funzioni economiche importanti del resto abbiamo fatto uno studio presentato anche all'università di Venezia con l'università di Pescara che ha stabilito l'aumento dei consumi del 50% durante la notte bianca dell'anno scorso un trend positivo anche per il pil interno della città quindi è un dato di fondamentale importanza sostenere attraverso questi eventi l'economia cittadina e l'economia abruzziese che ha bisogno di rilancio anche in vista di quello che è accaduto nei mesi invernali torniamo adesso invece sul messaggero cambiamo argomento l'esordio di Serpi a capo della procura di Pescara Rigopiano è il primo impegno il nuovo procuratore si è insediato ieri in riunioni con i PM le forze dell'ordine per studiare Pescara questo il cambio dopo il trasferimento di Cristina Tedeschini sulla tragedia dell'hotel faremo il massimo per rispondere alla domanda di verità e giustizia ha detto Serpi e poi la tragedia malore allo stabilimento il traghetto anziana muore mentre fa il bagno notizia di ieri una 82enne svizzera in vacanza a Pescara dopo un malore purtroppo è deceduta sulla battigia e poi l'università Mattoscio il direttore di filosofia il nuovo incarico di Nicola Mattoscio già presidente di Saga della fondazione Pescara Abruz poi tolleranza zero pro raggiostre abusivi multati dai vigili polizia municipale in azione sequestri agli ambulanti stop aggiustrai sull'ex cofa Deors segnalato in procura continuiamo nell'area metropolitana sempre sul messaggero dalle multe solo le briciole per le strade il semaforo killer di Montesilvano ha già fruttato 1.200.000 euro tolti accantonamenti e percentuali destinate a private poste per riparare le buche restano appena 130.000 euro e poi lavoro per bussi aiuti per il sisma comincia bene l'avventura di Filippi nella città del Pescarese andiamo avanti sempre con la lettura delle notizie da Pescara e dintorni torniamo sul quotidiano il centro turista muore dopo il malore in spiaggia abbiamo già visto tragedia nel mare antistante il traghetto la vittima è una donna di 82 anni vani i tentativi per rianimarla e poi il notaio d'Ambrosio sposa Loris orgoglioso di farlo nella mia città domani la cerimonia in comune celebrata dal sindaco ex compagno di scuola del 46enne pescarese il professionista rendiamo pubblica la nostra scelta sperando che possa aiutare a comprendere meglio nel taglio basso sfollati pronti a scendere in strada vogliamo subito gli alloggi i 236 sgomberati di via lago di Borgiano ieri hanno una delegazione ha partecipato ad una conferenza stampa tenutasi nella sede del gruppo consigliare di della lista Teodoro continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro restiamo alla politica pescarese le poltrone del comune Veronica la baby assessore capace di ribaltare le giunte ormai è un caso politico la figlia di Jenny Teodoro mandata via dell'esecutivo a ottobre scorso e adesso in procinto di essere riaccolta dal sindaco andiamo sulla pagina di Montesilvano il cantiere eterno distretto asle bloccato colpa della burocrazia i lavori slittano ancora e si continuano a pagare 10.000 euro al mese di affitto la protesta dei 5 stelle la provincia intervenga e appalti l'ultimo lotto nel taglio basso oggi la marcia dei senegalesi dopo lo sgombero di via riosto in corteo fino al comune per chiedere una sistemazione andiamo ancora avanti sul quotidiano il centro andiamo a vedere altre notizie dall'area metropolitana erosione slittano i lavori tra un anno le scogliere a Francavilla i balneatori chiedono protezioni per recuperare la spiaggia il sindaco Luciani frena progetti da finire e burocrazia servono i tempi tecnici poi per il palazzo sirena battimento a settembre scadono i termini e nessuno mette il vincolo sulla struttura la demolizione è più vicina nel taglio basso a San Giovanni Tiatino asilo nido e verde passano ai privati le proteste non fermano il comune avanti con i tagli nella pagina di Penne Popoli e l'Alta Val Pescara l'ACA chiude l'ufficio senza sportello sei comuni il punto informativo di Penne tornerà in servizio a settembre la protesta dei cittadini così non si possono contestare le bollette sbagliate e ancora tre associazioni in difesa dei Tigli protesta a Colle Corvino continuiamo con la lettura dei quotidiani regionali delle pagine interne adesso andiamo a vedere insieme sul messaggero la pagina di Chieti universitari al campus 200 posti letto scontati intesa tra Azzu e struttura privata per le camere riservate e fuori sede lo studentato dell'Ater resta invece chiuso e rischia di andare in rovina poi processo con l'abbreviato per l'omicidio di Marco niente giudizio in corte d'assise si del giudice alla richiesta diritto alternativo per Cipressi questo per quanto riguarda l'omicidio di Fausto Di Marco 39enne musicista ucciso con un fendente alla gola la notte del 9 ottobre a Chietiscalo l'imputato è Emanuele Cipressi 25 anni nel taglio basso abusò di una barista condannato a 5 anni e mezzo questa la sentenza e poi arrestato una spacciatrice di eroina incastrata dalle ultime chiamate nella pagina di Lancianova Stortona la d'Orsogna un colosso svizzero l'azienda dolciaria Frentana acquisita dalla Barri Calbò conclusa dopo mesi di trattativo in operazione da 40 milioni lo storico Marco non sparirà la nuova proprietà punta lo sviluppo nel settore specialità e decorazioni nel taglio basso l'avvertenza Oneiwell regione in campo a metà settembre il tavolo al ministero un'eccellenza da salvare in Val di Sangro dice Giovanni Loglia rischio 450 posti di lavoro l'altola dei sindacati vediamo insieme l'incontro che c'è stato ieri in regione Abruzzo a Pescara noi aspettiamo di arrivare a questo tavolo nazionale che è già predisposto e lì però vogliamo sapere sulla base di quale prospettiva e di quale strategia e di quale piano industriale e lo vogliamo sapere non dai dirigenti dello stabilimento con tutto il rispetto che si deve avere nei loro confronti ma lo vogliamo sapere la corporate cioè lo vogliamo sapere dai proprietari e capire che prospettiva c'è perché se permettete siamo di fronte un po' un paradosso cioè siamo in un mercato quello dell'automotive che sta andando bene in un settore che è quello del turbo che sta andando particolarmente bene in presenza di uno stabilimento che a detta del gruppo è il migliore stabilimento più performante dell'intero gruppo e invece nel gruppo più performante viene lasciata la produzione che è quello di turbodiesel che diciamo non è esattamente la produzione diciamo che avrà più futuro e per di più vengono da un po' di tempo replicati dei codici cioè viene in pratica copiati dei pezzi di produzione e trasferiti in Slovacchia e tutto questo non ci fa presupporre che ci sia una strategia rassicurante sul futuro diciamo che è un incontro propedeutico a metter su una discussione in sede ministeriale l'azienda si è impegnata ad arrestare il processo di backup quindi l'operazione sta facendo che dovrebbe portare lo stabilimento di presa in Slovacchia a saper fare quello che si fa qui ad Atessa e ovviamente diciamo non c'è l'impegno a rilanciare il sito non c'è nessun impegno sul futuro c'è l'impegno però a cercare di andare avanti con la discussione per arrivare ad avere maggiore chiarezza sul futuro del sito di Atessa quando a settembre ci incontreremo intanto c'è una presa di posizione da parte della regione la quale ha suggerito sia al sindacato che ha l'azienda di bloccare il backup e nello stesso tempo di rallentare le nostre azioni sindacali il nostro obiettivo però deve essere il ministero deve essere il governo al tavolo con la proprietà americana per poter guardare al futuro dopo il 2020 prima di passare alle notizie delle altre province restiamo sempre nel Chietino da vasto dipendente comunale ferito a colpi di casco sulla pagina del centro nuova aggressione negli uffici del municipio i vigili urbani arrestano un ambulante 33enne andiamo ancora nel taglio basso Ortona incidente alla fabbrica dei pannolini operaio Chietino rischia di perdere tre dita si tratta di un 41enne di casa l'incontrada che ha riportato danni serie alla mano sinistra il tutto è avvenuto alla Ontex Manufacturing Italy ex chicco lo stabilimento di località Cucullo dedicato alla produzione di pannolini continuiamo come detto con le notizie dalle altre province adesso andiamo a vedere sul messaggero la pagina dell'Aquila rassegna jazz nei luoghi del sisma il clou al piazzale di Collemaggio la manifestazione diventa itinerante in Abruzzo Lazio Umbre Marche la partenza il 31 agosto a Scheggino il 3 settembre serata finale nel capoluogo il direttore artistico Paolo Fresu ha presentato il programma a Roma ci teniamo all'Aquila nel 2015 riscritta la storia la vertenza incontro con Carrefour l'UGL speriamo in una soluzione l'incontro è stato posticipato a martedì a Roma e poi la tragedia traslocatore morto a San Demetrio probabile autopsia prima dei funerali e ancora allarme vipere in periferia ha morso un pastore andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona casa degli orrori arriva il console il rappresentante del governo egiziano visita la struttura di canistro dedicata ai migranti i due operatori furono arrestati per maltrattamenti a far scattare l'inchiesta la denuncia di un giovane africano picchiato Sheriff El Gamal incontra il procuratore e il dirigente della mobile complimenti agli investigatori per la celerità intanto gli indagati negano con decisione tutte le accuse sempre dall'area Peligna Sulmona pratiche del terremoto c'è l'accordo sulla task force da Avezzano per Crab e Burgo comune in campo ieri il singolo De Angelis è incontrato l'amministratore delegato della Burgo il responsabile della gestione e certificazione del gruppo il direttore dello stabilimento e il responsabile dell'impianto nonché un gruppo di lavoratori andiamo avanti ancora con la lettura dei giornali andiamo a vedere la pagina dell'Aquila del quotidiano il centro e torniamo a parlare della inchiesta sul post-sisma scandalo terremoto trovati 15 mila euro a casa di due indagati spuntano soldi incontanti durante le perquisizioni la difesa somma da utilizzare per le spese quotidiane nel taglio basso così la ditta terramana fracassa vinse l'appalto e dal geometra Piccinini del segretario dei beni culturali partono sfotto e canzoncine di scherno ancora di Vincenzo sgomita per fare il segretario pressioni su D'Alfonso dalle carte dell'inchiesta il direttore del ruolo dell'architetto ex Mibact con Marco Antonio di Nuova nei Guai e quella nomina ministeriale nel taglio basso danneggiata l'auto della Blundo dei 5 Stelle graffia le fiancate con un punto e ruolo scritta contro lo Stato la senatrice dice non fermeranno la mia battaglia per la verità questa insomma la pagina doppia su quanto sta accadendo all'Aquila nella ennesima dobbiamo dirlo inchiesta sul post sisma restando sempre al quotidiano il centro andiamo a vedere la pagina di Eteramo tangenti appalti a Giulianova inchiesta Castrum l'accusa ottiene il processo Lampo giudizio immediato dal 15 dicembre per gli 8 agli arresti domiciliari e poi ancora insulti e sputi ai controllori sul pullman è accaduto ad Alba e Martinsicuro sulla linea della tua gli abusivi erano senza biglietto e documenti continuiamo con le notizie dal Teramano andiamo sul messaggero andiamo a vedere la pagina di Eteramo centro storico commercianti multati senza neanche saperlo il parrucchiere Mariani ha il record di 35 verbali e dice pensavo di essere in regola sotto accusa i mancati avvisi per la scadenza e i permessi in ZTL il dirigente Manetta a noi non compete la regolazione dei varchi quanto la procedura per la gestione e poi picchiava l'ex moglie e la figlia è stato allontanato l'ex coniuge continuava ad abitare nella stessa casa ragazzo siciliano picchiava la madre nel taglio basso FITIM test del DNA per l'omicida di Emanuel questo per quanto riguarda il delitto Spinelli ancora caseater a settembre i lavori oltre 140 immobili inagibili nella pagina di Giulianova Rosetta della Val Vibrato operazione Castrum processo il 15 dicembre abbiamo già visto sul centro e poi brucio appartamento si salvano madre e figlio e ancora ospedale il sindaco attacca ma il PD comunale è tace questo per quanto riguarda Giulianova nei problemi legati al nuovo ospedale restando sempre al Terramano andiamo a aprire anche le pagine interne della città il quotidiano della provincia di Teramo per andare a vedere altre notizie dal capoluogo e dalla provincia recuperiamo le pagine interne Terramani che odiano le donne violenza in casa due terramani nei guai la polizia allontana un 22enne che picchiava la madre ed un imprenditore edile che malmenava moglie e figlia poi nel taglio basso Tania Bonici Castelli eletta la presidenza delle pari opportunità ovviamente noi facciamo le congratulazioni alla nostra collega della redazione terramana ieri pomeriggio l'elezione unanime della commissione vicepresidente è stata designata l'avvocato Maria Grazia Marinelli continuiamo una chance per terramo capitale della cultura il comitato sostenitore chiede al mondo della comunicazione di partecipare alla candidatura andiamo ancora avanti sempre sulla sulla città altra notizia Petrella asili nido per bambini non vaccinati l'ex ginecologo dell'ASL convocato dall'ordine dei medici per le sue posizioni contro il vaccino anti-HPV i supporter il medico è stato accompagnato da un utile gruppo di sostenitori tutti genitori free vax vediamo qualche altra notizia sempre sulla sulla città andiamo a recuperare dalle pagine provinciali i cinghiali il Tar dà ragione alla regione la sentenza in merito respinge il ricorso presentato dagli ATC Teramani Vomano e Salinello la sospensiva all'inizio del mese di luglio il Tar aveva accolto la sospensiva per la sola provincia di Teramo in attesa di esprimersi nel merito ieri mattina la decisione in senso opposto andiamo ancora avanti sempre dalle pagine provinciali della città 80 migranti in arrivo a Giulianova preoccupazione tra gli operatori turistici che temono di essere penalizzati Gianluca Grimi in questo momento dopo i disagi di questo inverno la costa Teramana non può fare accoglienza adesso apriamo la pagina dedicata allo sport torniamo sul quotidiano il centro e dunque andiamo sulle pagine sportive per parlare ovviamente in primo piano del Pescara che continua il suo ritiro fra sudore e mercato serie B il mercato del Delfino Pescara porte girevoli c'è Perina se va via Fiorillo Salernitana Cesene Palermo sull'estremo difensore Biancazzurro Pigliacelli è la prima scelta di Zeeman in caso di addio del portiere genovese si punterà sul 25enne del Cosenza la società è in trattativa con i romagnoli e i campani ma dalla Sicilia potrebbe arrivare l'esterno Embalo dopo l'addio di Mitrizia la società vuole continuare a sfoltire la rosa si attende l'offerta del Sion per Memushai mentre su Biraghi c'è il Chievo le altre l'ex romagnoli passa all'Empoli Cerri invece giocherà con il Perugia nel taglio basso Zeeman risparmia 45 minuti di lavoro alla squadra il Boemo fa respirare i biancazzurri accorciando la seconda seduta differenziato per 10 calciatori questo per quanto riguarda il ritiro andiamo sul messaggero per vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del del messaggero vediamo di recuperare in maniera rapida la pagina attendendo il refresh del del sistema del messaggero per poter visualizzare la pagina dedicata allo sport regionale e allora eccola qua Pescara l'ora degli ad Zeeman vuole sfoltire la rosa di quasi 40 giocatori via coda Stendardo Rossi Selasi Bruno Forte e Milicevic Polidori dopo il Noal Trapani potrebbe sistemarsi a Carpi Sebastiani dice corteggiamo Insigne Junior però siamo in tanti il notiziario l'amichevole Colteramo si disputerà ad Avezzano in programma martedì 25 alle 17 e 30 continuiamo con il volley di A2 sempre su questa pagina esorge in salita Spoleto contro una big per la si è corto una prima gara contro Cantù a Raduno mancherà Benz con la Nazionale proseguiamo sul messaggero andiamo a vedere la Lega Pro Serie C che dir si voglia Teramo Calore titolare Mantova escluso che beffa e noi adesso andiamo ad ascoltare proprio Tomas Calore intervistato da Agne Cantagalli Tomas bentornato però questa volta hai galloni a titolare quest'anno ritorno con un po' irresponsabilità in più ma è stata una scelta voluta sia da me sia da società di appartenenza mia e del Teramo quindi cominciamo con la massima serenità con la voglia di lavorare e di migliorarsi e sono certo che faremo un buon lavoro due stagioni fa una stagione da titolare poco distante da Teramo a San Nicolò adesso come sarà essere titolare in Serie C come ho già detto le pressioni saranno leggermente più alte perché ovviamente sono i rumori della piazza comunque molto esigente come ho già visto l'anno scorso io non posso dire altro di poter dare il meglio di me stesso ovviamente cercando di aiutare i miei compagni e di raggiungere i migliori risultati a parte alcune facce amiche dell'anno scorso ci sono quest'anno anche facce tante che conosci da Pescara sì ho incontrato Ventola Melillo di Petrantonico con cui ho avuto il piacere di passare tanti anni nel settore giovanile a Pescara e ritrovarli qui tra i professionisti è sinceramente un gran piacere Senti il Teramo parte con l'obiettivo di salvarsi dopo una stagione travagliata che è stata quella passata magari con un po' più di tranquillità quest'anno ma speriamo anche perché un'altra stagione come quella passata al Cardiopalma sinceramente non me la auguro speriamo di raggiungere il nostro obiettivo con la massima tranquillità e serenità cercando di portare le nostre tifosi e portando il bel gioco soprattutto il nuovo preparatore dei portieri lo conoscevi già o no? l'hai fatto la conoscenza adesso? no io ancora non lo conoscevo ma sicuramente il ritiro è il momento migliore per le cari rapporti per conoscerci quindi non ci sarà nessun problema assolutamente sempre sul Teramo sempre sul Teramo dalla pagina del centro Dieta Corsa e Sudore ecco il nuovo Teramo alle 17.30 primo test doppie sedute fino al 29 luglio solo al mattino la squadra percorre almeno 8 km agli ordini del preparatore Perazzolo restiamo sempre al Teramo andiamo a vedere anche il titolo della città con De Grazia il mosaico Teramo è quasi completo la squadra di Asta è quasi fatta mancano ancora dei tasselli per consegnare le alternative all'allenatore Biancorosso il diritto di recompra l'Ascoli ha tenuto per sé il diritto di recompra per De Grazia alla fine di ognuno dei due anni di contratto ieri c'è stato il Consiglio Federale a Roma sono state ufficializzate le mancate iscrizioni di Como Maceratese Mantova e Messina e Latina invece non aveva proceduto all'affiliazione alla Federazione Italiana a gioco calcio continuiamo con questa pagina nel taglio basso il basket gli Sharks battono un altro colpo e si assicurano anche contento torniamo sul quotidiano il centro ritorniamo invece al calcio Avezzano piazza il colpo ingaggiato Dos Santos Serie D Marsicani si assicurano il bomber ex Chieti e Triestina Lavastese ingaggia Padovani nel taglio basso Francavilla Candeloro tratta l'acquisto i giallorossi saranno ripescati in dispunto il nome di un nuovo imprenditore l'ingegnere Gilberto Candeloro potrebbe essere il nuovo patron del Francavilla ritorniamo al basket la Monica fischia l'NBA ve la do io l'America l'arbitro pescarese rientrato dagli States dove ha diretto le gare della Summer League esperienza straordinaria spero di tornarci il prossimo anno per la nuova stagione nel taglio basso la pallacanestro Tietina vuole ripartire dopo la mancata iscrizione in B il progetto del circolo basket all'insegna dell'azione areato popolare Campli ha ingaggiato il playmaker Miglio Teramo su Samoggia e poi per l'A2 contento Roseto finalmente qui il nuovo play si presenta continuiamo SIECO la corsa salvezza partirà da Spoleto in A2 nel nuovo calendario esordio il 24 settembre l'impavida Ortona nel girone blu Banks stella di una rosa rivoluzionata per la palla a mano il cammino delle abruzzesi ufficializzati anche i calendari per le società terramani di A1 e per le squadre di A2 andiamo a vedere anche di completare la lettura della pagina Abruzzo del messaggero per quanto riguarda lo sport Montesilvano saluta il futsal nazionale la squadra non si è iscritta neanche in Serie B era stata l'unica italiana ad aggiudicarsi la UEFA Cup la società del presidente Iervolino si arrende lontane le glorie del passato questa era l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa mattino 6 finisce qui il prossimo appuntamento è domani mattina alle ore 8 mentre la nostra informazione oggi torna con il TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro la buona giornata grazie a tutti grazie a tutti